siria e jack amano trascorrere molto tempo insieme è nato un nuovo amore visto che siria si trova adesso da questa parte e non sta più con sua sorella georgia hanno scelto questa postazione il tavolo perché da qui si può osservare dall'alto tutto quello che succede in questo spazio ma siria è preso sonno vigila jack per lei sono una bellissima coppia forse tra di loro è sbocciato l'amore ovviamente siria è sterilizzata ma i cani sanno amarsi anche così grazie a tutti grazie a tutti